Il discorso che Scelva pronuncia dal balcone del comune per le elezioni amministrative. Egli asserisce che i comunisti intendono trasformare la lotta elettorale amministrativa in una lotta politica. Confuta alcune asserzioni che gli hanno fatto pervenire gruppi di sinistra e ribadisce il compito della democrazia cristiana per la difesa delle libertà democratiche. Grazie